L'Olimpiagnonese viene letteralmente travolta dall'Avezzano, al Civitelle finisce 1-4 per gli abruzzesi con i Granata che non entrano proprio in partita se non nei primi 15 minuti della ripresa. Ma andiamo alla cronaca di questo strano match. Il primo squillo è anche quello che sveglia la partita e arriva al settimo minuto di gioco con un tiro dalla sinistra di Pellecchia che Venturini ribatte ma Dos Santos si fa trovare pronto ad insaccare ed è 1-0 per l'Avezzano. Inutile dire che questa prima rete disorienta l'Agnone che non riesce a sfruttare le pur poche occasioni lasciate dai biancoverdi, come al quattordicesimo su un calcio di punizione battuto da Guerra che va alto sulla traversa. Al venticinquesimo il secondo colpo inferto all'Agnone arriva su calcio d'angolo battuto da Bisegna su cui di testa Menna mette la firma del 2-0. Al ventottesimo ecco un'altra occasione su calcio piazzato per i padroni di casa con Giglio che tira centrale e Fanti che intercetta. Al quarantaduesimo ecco di nuovo l'Avezzano all'attacco con Dos Santos che aiutato dalla distrazione di Cassese riesce a chiudere il primo tempo sul 3-0. Con le immagini di Antonio Masi eccoci nella ripresa con un Agnone che scende in campo con tutt'altro Piglio, tanto è che all'undicesimo i Granata riescono ad accorciare le distanze grazie a Santoro che servito da Ferraro riesce ad insaccare la rete biancoverde per il gol dell'1-3. E un minuto dopo è proprio Santoro servito da De Stefano che sbaglia tutto a tu per tu con Fanti. Al quindicesimo il numero 1 ospite compie un vero e proprio miracolo su calcio di punizione battuta da Ceria che serve l'occasionissima a Santoro. Scocca la mezz'ora e Frabotta commette fallo in aria sul Lombardo. Per il direttore di gara quattro ciocchi della sezione di Latina non ci sono dubbi, è rigore. Al dischetto va Pellecchia che non sbaglia per l'1-4 finale. Non accadrà più nulla di particolarmente eclatante fino alla fine del match che si chiude con le contestazioni dei tifosi davanti agli spogliatoi, il silenzio stampa della squadra e il fermento della dirigenza tutta che preannuncia forse in qualche modo qualche novità già dalla prossima settimana.